Due mezzi passi falsi, cinque partite fino al giro di Boa, è il momento cruciale della prima parte di stagione del Pescara questo? No, cruciale no perché il campionato è lunghissimo, il campionato è tutto quanto all'inizio e alla fine importante, sappiamo che soprattutto in questo tipo di campionato, in Serie B, i giochi si fanno alla fine, tant'è che anche adesso siamo tutti lì. I risultati scontati non ce ne sono, anche le prime sono capaci di perdere o pareggiare con le ultime, anche in casa, visto i risultati di ieri, quindi è un campionato difficile, un campionato che riserva sempre sorprese, noi abbiamo tante certezze e abbiamo tante certezze anche su cosa dobbiamo migliorare e dove poter migliorare, il nostro compito è quello, limiare il più possibile i nostri difetti. Il suo predecessore predicava sempre equilibrio in campo e soprattutto fuori, Pescara come ben sa è una città che vive di entusiasmo, si accende con un niente ma si spegne altrettanto facilmente, delle tante critiche ultimamente ricevute c'è qualcuna che le ha dato più fastidio delle altre? No, no perché io semplicemente leggo e sento tutto e lo faccio in maniera costruttiva, nel senso che prendo in considerazione tutte le critiche e le faccio mie e lo faccio in maniera costruttiva. laddove penso che siano giuste ricavo anche dei benefici, quindi l'importante è essere positivi. Chiudiamo così, si avvicina Natale e con esso successivamente gennaio ed il mercato, cosa vorrebbe sotto l'albero Mr. Oddo? La salute. Quella non si compra al mercato però, nessun tipo di mercato. Io ripeto che parleremo di mercato quando riaprirà, adesso come hai detto tu è un momento cruciale, quindi concentriamoci su queste partite che rimangono al giro di andata prima della riapertura. Poi per rispetto di chi c'è e del lavoro che stiamo facendo, credo che si debba parlare di mercato, quantomeno noi dobbiamo parlare di mercato quando riapre, voi potete farlo tranquillamente.